Tuffiamoci quindi nello show in Survivor Series che è stato un pay per view Totalmente inutile ma proprio dall'inizio alla fine perché non c'è stata una costruzione Non c'era niente in paglio se non dire ah il brand supremo sarà Rose Macdown per una notte poi dal giorno dopo amici come prima Non ci sono state particolari invasioni non c'è stato niente di che è stato proprio uno dei big four Quindi uno dei pay per view più importanti dell'anno dei quattro pay per view più importanti dell'anno Campato per aria così perché devono farlo e l'hanno fatto Partiamo dal kick off Damian Priest contro Shinsuke Nakamura si è concluso in squalifica a favore del nipponico Con distruzione della chitarra insulti e robe del genere è stato un buon match sicuramente sufficiente niente di clamoroso E capisco la scelta del finale di proteggere entrambi anche se in realtà avrei pronosticato Priest ad essere sincero Perché ormai è chiaro chi se ne frega di proteggere Nakamura Cioè non importa nulla alla WWE di Nakamura mi aspettavo una vittoria di Priest che è un po' più in rampa di lancio però niente di che Opener della serata forse uno dei match più interessanti di questa card Charlotte Flair contro Becky Lynch L'irlandese è riuscita a strappare una vittoria di rapina aggrappandosi alle corde e ribaltando il tentativo di schienamento della Queen Doveva essere una rissa senza esclusione di colpi e è stata una rissa senza esclusione di colpi L'intensità è stata alta probabilmente uno dei migliori match della serata insieme al main event E anche uno dei pochi con una storia dietro perché Charlotte e Becky Lynch effettivamente si odiano C'è stato quel segmento non programmato durante una puntata di SmackDown Hanno una storia lunga anni alle spalle e bello, bello mi è piaciuto Non posso dire di no, forse uno degli unici match sensati Ah non ho parlato dell'uovo dorato donato da The Rock a Vince McMahon Cioè The Rock non è apparso ma la pubblicità al suo nuovo film di Netflix l'hanno fatta comunque Lasciamo stare Team Raw contro Team SmackDown Non sto a elencarvi tutti i partecipanti La vittoria è andata al Team Raw nonostante il tradimento tra virgolette di Kevin Owens Che ha abbandonato il ring prima ancora di iniziare Ed è stata una contesa veramente lunga perché è durata più di mezz'ora Però dopo un inizio non troppo entusiasmante Quando è decollata la contesa mi è piaciuta Soprattutto perché Jeff Hardy ha avuto un ruolo importante in questo match E sono stato abbastanza coinvolto Non posso dire che la parte lottata del pay per view non sia stata buona Però non aveva una costruzione attorno E quindi mi è piaciuto guardarla ma non ero tanto immerso in queste storie Sicuramente un buon match tradizionale Vinto grazie allo stomp di Seth Rollins e ci sta Perché attualmente è il number one contender al titolo WWE Non rimarrà negli annali come uno dei 5 contro 5 più belli di sempre sicuramente 2-1 per Raw dopo questo match comunque La Battle Royale possiamo schipparla Ha vinto Omos e ero convinto che potesse vincere lui O lui o AJ Styles Alla fine ha vinto Omos Ci sta a costruire l'omone super potente che nessuno riesce a sconfiggere da solo E Omos mi convince come mostraccio incredibile E chissà se è l'inizio dell'allontanamento di Omos dalla divisione di coppia Secondo me presto vedremo una sua run da singolo Gli Usos contro gli Arkay Bro Match vinto ancora una volta dal team di Raw che si è portato sul 4-1 dopo questa contesa Posso dire che il finale mi è sicuramente piaciuto con l'Arkay Yo di Randy Orton Però non mi ha fatto impazzire il match in sé Da questi 4 ci si poteva aspettare decisamente di meglio Non è che è stato un brutto match anche questo eh Però non è stato lunghissimo, non è stato super intenso Suo figlio è intelligente ma non si applica Mettiamola un po' così Match a squadre femminile 5 contro 5 Vince ancora una volta Raw 5 a 1 per Raw Non è stato un match memorabile anzi è stata quasi una bella pausa bagno di 25 minuti Sono contento per Bianca Belair che nonostante il cambio di roster e l'aver perso il titolo Rimane una delle superstar femminili più importanti della compagnia L'hanno fatta vincere in maniera dominante Ma anche qui non si è sviluppato niente per nessuna delle partecipanti E soprattutto Sasha Banks non è che sia stata coinvolta più di tanto in questa contesa Cioè non mi hanno raccontato nulla Zero proprio Arriviamo al main event della serata Sicuramente il miglior match di questo pay per view Che ha visto la vittoria di Roman Reigns contro Big E Survivor Series ci lascia quindi due soli punti per SmackDown Con Nakamura disqualifica tra l'altro e Roman Reigns l'unica vittoria pulita E tutto ciò è stato costruito chiaramente per rendere Roman Reigns ancora più importante e dominante rispetto al resto del roster Che sembra quasi un gioco di parole Comunque bel match tra due pesi massimi Quello che mi ha divertito di più del pay per view Il finale mi è sembrato un po' frettoloso Anche perché sono uscite news dal backstage Che parlano di come stessero andando troppo lunghi coi tempi E quindi hanno dovuto velocizzare la contesa Big E non esce un granché protetto Perché è stato schienato in maniera pulita dopo una spiar E il problema è che questo video si può concludere qui Perché non c'è niente da approfondire Cioè non c'erano storie dietro Non ci saranno storie avanti Non c'è niente da dire È stato proprio un pay per view da fare Perché era da fare Ma senza una costruzione E senza dei risvolti futuri E quindi boh Bravo Roman Reigns Che è ancora al top della WWE Il resto Boh Becky Lynch contro Charlotte Bello E poi tanti match di contorno Per la supremazia tra brand Che non è stata neanche menzionata più di tanto Durante l'evento E io non posso far altro che darvi appuntamento ad un prossimo video Grazie mille per essere passati La losso certified way è tutto E boh Cioè è finita così Sì mi dispiace Ciao 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 Grazie a tutti